Allora io Giasta, sono qua con Giasta, io parto con dire questo è il cappello che tu mi hai firmato alla festa della musica di qualche anno fa ti ringraziato e ho detto io non ho mai avuto un autografo di Giasta, eccolo qua è stato un bellissimo momento perché è stato un momento particolare soprattutto in un contesto particolare come quello della festa della musica che ci tengo a rimarcare il fatto come prima ho parlato che avete sempre creato qualcosa di bello, qualcosa di molto positivo per i ragazzi, per l'ambiente, per la musica quindi ancora un applauso per voi Grazie mille Giasta, ora parliamo di te, dopo tutti questi anni cosa ti porta e cosa ti dà l'energia per andare ancora su quel cazzo di palco e tirare fuori tutta questa carica qua da questi ragazzi qua Allora voglio come prima cosa dire che non sono abituato a parlare con qualcuno che mi tiene il microfono quindi già mi fa strano ma mi fa piacere detto questo l'energia per tutto questo arriva dalla grande passione che ho sempre avuto in tutto questo in questa musica, in questo ambiente ce l'ho da quando sono alle scuole medie quindi da tantissimi anni perché ora ho 40 anni quindi è un bel po' di anni che si va avanti con questa passione c'è una carica che spiego come nel migliore dei modi è una carica di passione, di amore per questa musica, per questo ambiente per chi partecipa a questi party perché vedo che c'è sempre tanto tanto entusiasmo tanto impegno da parte di questi ragazzi che fanno il pullman vengono in treno, si fanno ore di viaggio pur di essere qui e questo secondo me è una cosa bellissima perché andare a ballare a mezz'ora da casa è bello ma farsi otto ore di treno, di pullman è qualcosa di inspiegabile che la musica al core e la scena al core sa dare grazie a questi ragazzi che si impegnano tantissimo quindi io parto dal presupposto che devo dare quello che è dentro di me a questi ragazzi e provare a contribuire con la mia passione, con l'amore che ho per questa musica impazzire sempre per me è importantissimo, mi piace un sacco e effettivamente sono un bel po' di anni ma non mi stanca mai, la verità è questa, che non mi stanca mai quindi per salutare, io ti lascio il microfono adesso perché lo tieni tu saluta come sai fa che tu, impazzire direi ragazzi, sempre solo un solo suolo, impazzire ciao a tutti, grazie come on! ciao! 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 ciao!